Prende velocità all'autostart che va per staccare. Lancio in questo istante. Va davanti Omerta De Colli su Open Del Rio, all'esterno Ruel Fonti. In corda si è sistemato Rino Costella, poi ancora Oliver KTM su Odrie Almar. O'Keefe all'esterno. Numero 1 Open Del Rio, squalificato. Sbaglio, Open Del Rio, finisce squalificata. 13,4 per i primi 200 metri. Omerta al comando, Orwell Fonti che incalza i 400 iniziali in 29. Palli che stanno completando la prima curva con Orwell Fonti che passa a condurre. Così, Orwell Fonti in vantaggio. Omerta di rincalzo su Orinoco e Oliver KTM. I primi 600 metri in 44,5 e ora il tentativo di risalita da parte di O'Keefe che guadagna posizioni a largo. Intanto il passaggio a metà gara in 1,1 molto scarso. La terza di Olidante che scavalca O'Keefe e punta su battistrada Orwell Font. La rottura di Omerta. Numero 5, Omerta De Colli, squalificato. Mentre in vantaggio è sempre Orwell Fonti. A largo viaggia O'Keefe, in corda Orinoco Stella. Ancora all'esterno in terza fariglia Orcobuio che chiude allo steccato. Oliver KTM, 16,5 il primo chilometro. Tre quarti di miglio in 1,32. Orle che completano la curva finale entrano ora nella lunga retta di Erivo. Guidati sempre da... Numero 4, Original Photo, squalificato. ...devito da O'Keefe che prova la terza. Orinoco Stella alla ricerca di un varco che non si apre. Orcobuio a centropista, più al largo anche lo scatto di One Cool Crystal. O'Keefe a centropista all'attacco di Olidante. O'Keefe che insiste. O'Keefe che attacca Olidante sul palo. O'Keefe, Olidante, Orinoco. O'Keefe, Olidante, Orinoco. Qui vicino alla mia postazione ci sono gli allevatori e proprietari di Orinoco Stella e gli allevatori e proprietari di O'Keefe. Non vi dico i sospiri che ci sono. Cosa fa la passione. Meraviglioso. O'Keefe prende il sopravvento su Olidante. Fra i due c'è Orinoco Stella. La vittoria va a O'Keefe con Massimiliano Matteini. Il training è sempre di Massimiliano. I colori sono della signora Livia Cella. Il quota al totalizzatore è 3,68. Il tempo al chilometro direi intorno all'1,16, forse un filo scarso.